e ciao a tutti ragazzi siamo tornati con un nuovissimo video ragazzi quest'oggi siamo tornati a grande richiesta su minecraft pocket edition nella hero craft ovvero il seed di aerobrine su minecraft pocket edition dato che è da molti mesi che non entriamo più ho dovuto convertire il mondo alla nuova versione di minecraft che è la 1.8 quindi diciamo che troverete il mondo di aerobrine come nella mia lista dei mondi come primo perché appunto ho dovuto convertirlo non sono entrato ma è bastato modificare alcune opzioni e mentre le modificavo ho notato una cosa se io vado qui e poi scendo vi ricordate adesso in descrizione vi lascerò tutto il seed di questo mondo ho notato che dopo tutto il seed che abbiamo messo il seed che compare è 0 questo è strano ragazzi perché il seed 0 dovrebbe apparire con delle modifiche strane al mondo non mettendo un seed normalissimo di aerobrine perché il seed 0 è un seed buggato pieno di errori e è un seed che non viene mai generato solitamente quindi appunto vi sto dicendo che questa è una cosa strana che viene aggiunta che si aggiunge diciamo a tutto quello che ci è successo la scorsa volta nello scorso episodio che avevo fatto senza parlare perché ero in montagna cioè ero in Trentino Alto Aldige in vacanza eravamo stati uccisi da dei fulmini era successa una cosa incredibile adesso potete andarlo a vedere nella sezione playlist quindi a grande richiesta giochiamo nuovamente in questo mondo ragazzi sono veramente quasi impaurito perché in questo mondo sono successe un sacco di cose strane e veramente è un mondo incredibile ho deciso che comunque farò meno tagli perché in modo da garantire appunto la veridicità di quello che vi sto facendo vedere ok ragazzi che cavolo che cavolo ma siamo di nuovo qui che cavolo ragazzi ma noi eravamo morti un'opportunità no aspetta eravamo morti ne sono sicuro eravamo stati uccisi dovevamo spawnare tipo senza niente probabilmente perché quando appunto ci ha uccisi mi è crashato minecraft e quindi probabilmente si è resettato ok sembra esserci tutto oddio noi noi questo altare l'avevamo distrutto però eh mi ricordo bene che l'avevamo distrutto che cavolo e voi perché ci hanno dato una seconda opportunità pezzi di redstone che cosa raga raga che cosa sta succedendo non sto capendo io vi faccio vedere che comunque sono in single player se vado qua no è qua multigiocatore vedete che è disattivato e inoltre i trucchi non sono attivi ok la traccia porta fino a qua mi sembra di ricordare tipo che più avanti dovrebbe esserci qualcosa perché strano che si interrompa tipo qua in mezzo al mare ok già le prime cose strane stanno accadendo intanto lì sotto vedo degli zombie che cosa uno scheletro che sta bruciando al buio che cos'è sta roba no raga no raga cosa sono ste robe cos'è una croce che cavolo che cavolo altri pezzettini di redstone cosa c'è là un'altra croce oddio ma siamo finiti tipo nel bioma glaciale mamma mia come hai fatto a vederci no 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 via 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 come hai fatto a vederci che eravamo dietro un'altra croce un'altra croce comunque sto notando che comunque di mob ce ne sono pochi eh quelli che ci sono sono mob strani tipo quello là col cappellino non lo so raga aspettate che disattivo le coordinate perché stanno dando fastidio dov'è che sono no vabbè raga sta anche laggando c'è sta pure laggando che cavolo ok raga what l'avete visto qualcuno ha fatto cadere della ghiaia no raga stiamo morendo stiamo morendo raga dove siamo spawnati raga ho trovato questi due questi pezzettini di ghiaia ma non ho ancora trovato la nostra roba uh raga raga l'ho trovata raga l'ho trovata l'ho trovata ok 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 prendiamo tutto prendiamo tutto buchetto per favore oh ce l'abbiamo le mele perfetto intanto vorrei farvi notare che si è alzata questa nebbia e non c'è un mostro no seriamente cioè guardatevi in giro non c'è nessuno è tutto completamente vuoto questa cosa non mi piace vabbè niente ragazzi allora il seed tutti i link tutto quanto ve lo lascio in descrizione penso che per questo episodio sia tutto la nostra caccia naturalmente continuerà nei prossimi episodi vi farò sapere che cosa sta appunto succedendo probabilmente o domani cioè o è il giorno in cui ho caricato il video quindi giovedì o venerdì sarò in live sul canale probabilmente nel seed di aerobrine in minecraft 1.0 anche perché l'ultima volta eravamo tantissimi e abbiamo visto più volte delle cose strane alcuni di voi hanno visto pure aerobrine penso che se volete potrei fare delle live pure in questo seed dato che ho dei programmi appunto per fare le live pure su minecraft pocket edition quindi nulla ragazzi iscrivetevi attivate la campanella commentate questo video condividete lasciate mi piace e nulla sempre attenti ragazzi mi raccomando anche perché questa nebbia non sembra andare via e non c'è più nessuno buona giornata ragazzi e ciao da free bomber guardare